L'evento è stato un po' così, nel senso, un po' fiacchetto Un cazzo, marzo Ah, i pacchi doppi, a te che ti piace shoppare? I pacchi doppi sono usciti Shop in pacco, te ne da un altro Hanno messo i pacchi 2x1, tiè, se proprio ti interessa Allora, sto pacco dovrebbe costare sui 180.000 crediti, 170.000 Mo' io voglio capire un po' Chi mi scende se cosa è, ma 585 era quello che te davano con gli swap, no? Allora, c'è il 91 Già questo so' 100.000 crediti Buono Vediamo sotto Un varan che magari ce l'ha pure scambiabile Varan che ce l'ha scambiabile E beh, questo è andato bene, ce l'ha guadagnato Sognava, fammi proprio che sognava con quest'altro 585 Fammi vedere che se trovate bello Vediamo che hanno aggiornato il prezzo su Foodbin UCL Ma è messi, oh No, non è vero, è di bala Credo ho visto UCL e pensavo fosse il Messi a ti, quello evento Quello che hanno messo nei pacchi Mo Fatto, è messi Eh, il cazzo mio è messi 88, 87, 86, 86, 85 Insomma Bella per lui Alla, Teo, ma quanto è arrivato con sta giocata carina che hanno fatto di rimetterlo nei pacchi Meno male, non mi sono comprato nessuno di questi eventi 5,40, buono Te dirò, buono se lo devi comprare Come 86 è più alto Oh Comunque hanno sfaciolato col costo, costa troppo secondo me Allora se c'è la scambiabile Buono, tutto un capoccio a sto, ma se, sto seria a sto pacco Vai Una carta di evento, cioè ci sono usciti i giocatori speciali Dammeli sti giocatori mezzi speciali Che cazzo ti costa? Muri è l'86 Allora non è neanche una brutta carta in realtà È stata super sub E qua e della C'ha belle stazze Ma il discorso è quello che c'è sotto Ah Second pick Eh raga, speriamo Io negli sperimentali c'ho un avas 90 Eh? Ma andiamo a vedere subito se è vero Mmm 87 Bene E sotto Clamoroso Mi sa come te parti i bag, capito? No te vanno Fa bruciare un po' dei crediti Off the match di Champions e d'Europa League Penso In genere è tra venerdì e sabato notte Quindi Keylor Navas Poi che faranno? KDB può essere? Bello, no Grazie P5 Che non te è ben tornato Oh 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 vedi stavo a cercare una carta speciale Bello Peppe Tu carino Ma venga Culibali o Blacker Pesh E questa è una bomba Quadrator Man of the match Poi mi ricordo che era Ha uno troppato in notturna Me l'ero comprato tipo subito Basta Non è come 25k Torato Neymar Ma non è possibile 90 Sta sui 70.000 Costo Cioè il problema Capito? Che pure che trovi un 90 Un 91 Poi da pinder culo comunque 15-30 45 60 L'arti 70 So 103 Quanta la sfida? Però si sapre se non scambiabili Cioè può sta Però insomma Vabbè io dopo Kamavinga Ma un bel meffi Van Dijk Record Che poi quello è simpatico Però è un po' Cioè ti posso dire Quest'anno Van Dijk L'ho giocato C più clamorosa Fortissima Però quando te spara Nel filtrante E il toti te ripia Perché c'ho 85 De velocità Ma quello Di far segno Buono Ehi Alexander Arnold No Però tutti Oh 85 Più Visto Un bel to' Beggio Tu devi preoccuparti Chi c'è in top squadra Van Dijk Bello Sì grazie A senzio Oh Beccate sto gimmick Pazzo Ti è Questo gimmick Fa parte del team Van Dijk Kamavinga Theo Hernandez Headliner ZH want to watch Hanno fatto un team Da 11 player Oh buono però Te dirò 3 pick I 3 Quando ne fai De 3 in 3 E droppa sempre 4 tiri 4 core Ogni 2 secondi Passa la palla Al portale Ha vinto 4 a 3 Che devi farlo Eh Argentina TS Aguña Va bene 85 Però è If Tutto ci potrebbero essere Ronaldo Neymar Mbappé Andano Vitch Roberts Sampi che godin Eh Schippas Inberto Hernandez Ah sì E Marco E allora Muo arrivo Perché sto più o meno Sui 20 minuti Fa D'invito Vabbè Mi ha rotto il cazzo Però Un altro varan Ho visto Come ha narsato Il drop De varanda Quando gli è calato Il prezzo Ma pensa un po' Assurda Sta cosa Adal Quando Dai che pacchettino Fammi grattavà Ah Che signore Un bello E benvenuto Fatti 20 pick Un walk out Modric Italia Dc Giorgio Chiellini 87 Giorgione Vediamo sotto Che cosa c'è Ma questo pacco Io Non lo Piuttosto mi spendere In picchi i sordi Mamma mia Ma poi Non è anche Che la mandor La saliva Ma andate Traverso E beve Mi do Arzab E beve Mo Tra mezz'ora Questo è forte Questo è forte Te fidi So 2 No Non è vero So 3 C'è pure Bruno Però insomma 85 Più E il più Arto 87 Non droppa Sì 87 85 85 85 Olli Ci va a vedere Uno Uno con al massimo 1 85 Solo Ma quindi Tipo se premo x Si apre tipo Tra una decina di minuti Sta caricato Bello Un sacca Grazie per l'osso Ci ha messo un po' Però si è aperto Vediamo se crasha Oppure effettivamente Si è molto lento Con calma Vai Sta arrivando Spagna Ti è Giordi Albo Bello Grazie Beats Maximitar 585 O poi mettendo De pare Dove pare Il nome Quello là Forse è più esterno Perché poi c'è Un bel fisico Giordi Agli altri sotto Mamma mia Quanto stanno A 1 all'ora Dai così Tanto per vedere Dai 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 Niente Non si saprà mai Eccolo L'ha caricato La bomba Che vergogna Ancora con i 585 Te ora ha fatto il 585 Più Adrattosa Maxime Enderpeak Un po' tardi Euro Però è buono Però è buono Cioè è esterno Super sub Massimino Uno di quelli Con i body Da più Baggati In assoluto Dai Almeno Black Va bene È un 91 Lo accetto Ci sta Mi farei una Sfia di Renato Che Mi farei 85 Bisogna Eh Drea Un attimo No No Super Non vissi Poi pure io Nartro Black Te dirò Ma Pensa a questi Senza evento Sono riusciti a mettere i pacchi Doppi E la gente Se li ha scioppati tutti Che crema Hanno altri Due settimane Nei pacchi Oh Doppio Zia Che culo Non scambiabile Grande È forte È forte Sto a giocando Tutti e due I miei Account Ah Vedi che carta Oh E De che De novo Parapapapà Bello Grazie per i venti Bello E bentornato Ha fatto mezzo bene Te direi Bello Grazie per i venti E bentornato Proprio lui Di Maria Ma che cazzo Usa di Maria Il tuo secondario O tu Proprio Triple 85 Si vola Capà Che stavano Tutto giù Se mi hai riscritto Su Mori Vado sopra Stacce Grande Ma un top Un emar Mampio Se poi troviamo Trovato Tersteg Te dirà 90 Magari sotto 89 88 87 85 85 85 85 85 Te puoi sbagliare Vabbè Ancora uno Senza Workout Te ne ho visto Quasi impossibile E if Capirà Immagino Che può essere Fabinho Te dirò 88 If Ma arrivo Ora Ma arrivo Chi è il leone Eccolo Fabinho Andare a Navas Pianic A Tiago Silva Comarsano Sempre lì Inculata Vabbè Come Iacopi Quel Bernardeschi Qualità Prezzo Tipo una Dei carte Più Rotte Del gioco Auro Ma sei Im pazzo Con sto If Con Luis Muriel Muriel Che ha 10 Vai E sotto Proprio lui La bomba Che merda Sotto Ma sto Comune quanto Costa 40.000 Praticamente Ma se Perché sono Un po' Fiacchetti È un'impressione Mio Ok Lore 87 Lasciate Sta Comunque Sì Un paio Gli faccio Buschets Mamma mia Che scammata Incredibile Tacci vostra Le tre di notte Tanto Non te Poi leggere A meno che C'è lo smurf Ma Vaffanculo Va Voglio Uno di Tre top Da sti Pacchi Se Pornano Effettivamente Usci Ti è Beccassi 485 Va Non lo vuoi Per te Fidi Stasi raggio Se fanno Un durannette Su Isaac Sì 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 Ti Lo apro Volete Far Due partite Su account Secondario Harry Kane Guarda Se Da 388 Ci potemo Stare Che poi Io per l'altro Stano a costa Sempre De meno Quello è bello 87 86 85 80 Il problema è per falli Sali deve esce altro che icona C'è capace una due settimane Tieni fermi Tieni Perché poi mettono tutti i pacchi doppi Penso almeno per 3-4 giorni Potrebbero calare ancora Ma chi è? Inx Terce Mamma mia 87 Ha perso 180 Eh Vabbè Normale No Non panic se l'ansiamo agli altri Aspetta un attimo Dovrebbe ripian Minimo Minimo Due if Insomma Ancora qui Via Via Ci sta darklish prime Utilizzabile Sì assolutamente Effetto Sono pochi Quelli che possono uscire Ed è sempre lui Mui ha preso il drop Pazzo Dell'if 85 Fenomeno incredibile C'è Snimers Goke Luca Cuciò Grande Via T-foot player E regà Il team L'ho postato pure su Insta E comunque Il team È quello Un giocatore Di ogni Di ogni evento Chi è questo? Sto mostro Ah Denamo Muriel Maximino Giocatore I want to watch Che meme I want to watch Mamma mia Bruno Kulaxi Sandro E De Jong L'ultimo L'ultimo Degli ultimi Vediamo che Che succede Che ci ha di bello Se vuoi assaltare Mi dispiace Ma succede Una cifra Come al solito E mo Devo andare Che sei 20 e 33 Quindi Brasile S Se ti piacerebbe Vabbè Allison UCL Io Querermelo vorrei fa Sono mezzo Sono mezzo Tentato De fammelo Querermi Dica la verità Griezmann Alberto Coker Mamma mia Dica la verità